Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale Sara Marcozzi e la consigliera Barbara Stella sono tornate a chiedere la rimozione dall'incarico del direttore generale della ASL Lanciano Vasto Chieti Tomaschel dopo le polemiche divampate per le lunghe file registrate sia al palauda di Via dei Vestini dove proseguono le vaccinazioni anti-covid di settantenni e di pazienti fragili che all'ex ospedale civile di Chieti. Marcozzi evidenzia una mancanza di organizzazione della campagna vaccinale al palazzetto dello sport di Via dei Vestini per esempio sono intervenuti anche i carabinieri per placare gli animi delle persone che lamentavano di essere state in fila per troppo tempo. Questa mattina non c'erano code, molte sedie messe a disposizione perché era in attesa del vaccino erano vuote poiché la ASL ha aumentato il numero delle postazioni vaccinali all'interno della struttura portandole da 5 a 7 e le somministrazioni procedono più velocemente. Resta però il problema per chi è in attesa e si trova all'esterno del palazzetto e quindi è esposto agli agenti atmosferici. Ieri sole e caldo, oggi pioggia, hanno indotto alcune persone a tornare a casa e a rinunciare alla vaccinazione. Disorganizzazione che caratterizza il piano vaccinazioni diciamo dell'ASL di Chieti è un unicum in regione Abruzzo. Io ho avuto l'opportunità di andare sia in visita diciamo così ispettiva nel punto di vaccinazione di Chieti Alta all'ospedale vecchio per capirci e lì addirittura non c'è un ordine per la fila e le persone si autogestiscono sostanzialmente tutti ammassati nell'androne perché anche lì non ci sono gli spazi necessari per fare questa fila. Allo stesso tempo sono stata a Pescara quindi stessa regione, ASL diversa, direttore generale diverso e c'è un'organizzazione che diremmo svizzera, cioè delle file ordinate, numerini per attendere nelle varie salette d'attesa che sono organizzate. Tempo di attesa, io ho accompagnato mia nonna quindi mi sono fatta tutto il percorso, tempo di attesa dal momento in cui siamo scesi dall'auto al momento in cui siamo risaliti sull'auto 45 minuti per cui è evidente che se gli strumenti messi a disposizione sono gli stessi è chiaro che c'è un problema di organizzazione di chi dirige la vaccinazione. Il direttore generale non fa altro che fare uno scaricabarile nei confronti poste che lo hanno anche smentito in maniera anche francamente imbarazzante. Io non so come l'assessore Verì e il presidente Marsilio possano tollerare queste umiliazioni quotidiane.